Pedro, ma cosa c'è lì? Che spettacolo Franco, però dobbiamo mettere che qui ci ha portato il nostro amico Gio, li ha visti lui, il nostro amico Gio li ha visti piccoli due giorni fa, nonostante siamo in novembre, pensa a te, guarda cosa è venuto fuori, che armillaria Mella, guarda, questi qui stanno già per aprirsi, però sono ancora belli bianchi e quindi sono buoni ancora, ma quelli lì sono uno spettacolo, questo è un ceppo di quercia, come si vede, è ancora viva, ma guarda cosa ce n'è lì, e poi ce n'è attorno anche dietro, guarda che c'è anche dietro, adesso ne tiro su un ceppo per far vedere, ma questo qui è spettacolare quel ceppo qui, guarda, 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 guarda cosa c'è qui, guarda qui, guarda qui Franco, ma lui che colore, adesso ti faccio vedere, questi più sono sanissimi, li riprendi così, senti che roba è, senti, 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 sembra un biscotto, guarda, 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 che polpa bianca, che profumo, ecco normalmente questi qui vanno bene cucinati e quelli grossi si potrebbero anche tagliare a metà, però è ancora, ecco così sono l'ideale a mangiarli, guarda che colore che hanno, perfetto, adesso li raccogliamo tutti, poi faremo vedere il procedimento per pulirli, lavarli, sbollentarli e cucinarli. Ok, va bene, bellissimi. Allora Franco, hai visto, questi qui sono i chiodini che abbiamo raccolto poco fa e sono venute fuori tre cassette attorno a quel ceppo lì di quercia, era veramente uno spettacolo, guarda che roba, tre cassette piene, adesso ti farò vedere, ne prenderò un ceppo per farti vedere come si puliscono, perché dovremo pulirli, lavarli, sbollentarli e poi mia moglie li cucinerà. Allora prendo un ceppetto e vi faccio vedere come si puliscono, prendiamo questo qui, il più piccoletto, guarda, questo qui con un po' i più piccoletti, giusto per far vedere, io un po' li avevo già puliti perché avevo cominciato, vedi allora, questi figli li avevo già puliti un po', vedi dove sono i resti, quindi si prende il ceppo, si pulisce, si tira via lo sporco maggiore diciamo, ecco così, dopo di che si prende il ceppo bene, così si giri sotto e si toglie tutta la parte con la terra ma anche tagliando un bel pezzo di gambo, vedi? Viene lì un bel pezzo di gambo perché attaccato al gambo ci sono naturalmente tutti dei batteri che non va bene, questi qui si buttano dentro qua, come vedi, eccoli qua, qui c'è praticamente adesso la prima porzione, la prima tranche di quella raccolta, questi qui adesso li laviamo bene e li lasciamo in acqua per, ecco poi vado a metterli in acqua, come vedi, i qui li mettiamo in acqua, li lasciamo proprio, devono essere in acqua completamente perché, siccome sono appunto un po' vicidi, si attacca tutto il terriccio attaccato alla cuticola del cappello, quindi lasciandoli in acqua per 10 minuti, un quarto d'ora, si scioglie bene tutta la terra e si possono lavare meglio. Ecco allora, come abbiamo detto prima, questi sono stati lavati bene per un quarto d'ora così in acqua, come vedi i più grossi li ha tagliati a metà, la nostra cuoca, mentre quegli altri insomma piccoletti con la misura qui si possono lasciare interi. Adesso questi qui si buttano nell'acqua bollente, li buttiamo nell'acqua bollente, la nostra cuoca li butta, ecco l'acqua ce ne vuole poca, addirittura qualcuno per fare questa operazione non gliene mette neanche di acqua perché i funghi sono molto bagnati e si potrebbe anche far senza, per un pochettino è meglio. Ecco adesso gli do una mano, ce n'è qui eh? Poca acqua. Si si poco ma comunque ecco, allora qui adesso sembrano tanti tanti ma quando dopo sono stati sbollentati per quanto Inese per quanto tempo? 3-4 minuti. 3-4 minuti, calano e si adagiano un po' e va buttata via l'acqua di bollitura. Vedi che stanno facendo tutto la schiuma? Ecco. E se stanno bollendo comincia a fare la schiuma, ancora un paio di minuti poi li scoliamo. Ecco così vengono praticamente dopo essere stati sbollentati e sciacquati bene e dopo si possono cucinare. Adesso vediamo gli ingredienti e come si cucinano. Eccolo. Allora metti l'olio nel tegame, un po' d'olio in fondo e poi aggiungiamo gli ingredienti che hai già preparato nel piatto. Il pomodoro, il dado, fogliolina di alloro, l'aglio, il prezzemolo e una ciughina. Un bel colore. Questi, ecco, vanno tirati giù inese con qualcosa. L'hanno messi dentro tutti. Vanno fatti poi quanto tempo devono friggere? Un paio di minuti. Ecco. Un paio di minuti e poi qua dentro gli vanno buttati i chiodini che abbiamo lavato bene e vanno fatti cuocere tenendoli mescolati, se no possono anche attaccare, per 40 minuti. Anche un'ora dipende, dipende dai chiodini se sono grossi o piccoli. Ok. Grazie alla cuoca Agnese e un bel servizio del nostro amico Pedroni. Ecco, i chiodini sono in fase di cottura e tra circa 40 minuti degusteremo con magari una bella polenta. Una bella foto di rose canine trovate sul sentiero. Grazie.